E oggi torniamo a incontrare una persona apparsa per la prima volta sugli schermi RAI 53 anni fa. Si tratta di Giulia Camera Solomita, la prima donna nel mezzogiorno e la seconda in Italia a prendere la patente per gli autobus. E ancora oggi, avanti con gli anni, continua ad andare contro le convenzioni. Per noi l'ha incontrata Giovanni Di Belli. Sono fatta vecchia eppure non pensavo che io avevo 85 anni. Ma come è venuta questa malattia? Ma quando hanno tenuto? L'età, una signora, non si chiede, ma con Giulia Solomita, la signora Camera, come nota Satriano, è diverso. Perché lei sembra nata per rompere tabù. Come quando nel 1968, prima donna al sud a prendere la patente da autobus, rispondeva senza timore a Mario Trufelli che le riportava alle diffidenze dei compaesani. Signora, per la verità, in paese i pareri sono un po' discordi. Veramente, questa a me non mi interessa proprio, la patente ce l'ho e me la tengo. Chi è contente è bene, che no, non mi interessa. Oggi Giulia è un'arzilla nonnina, circondata dall'affetto di amici e famiglia, e anche qui fuori dai luoghi comuni. Mi dica una cosa, figlia e nuora vicino a lei, ma chi è più brava? Lo dica in confidenza. No, lo devi dire, la verità. La verità è il più meglio mia nuora. Lei guida l'autobus come la signora Giulia l'ha guidato? Ho guidato in passato, sì, per qualche anno. E secondo lei è diverso da quello che ha vissuto? Eh sì, sicuramente sì, per me non è stato così difficile. Una rivalità con sua cognata che in realtà non c'è. No, non c'è. Però lei l'autobus non la guida. No, no, io no, non guido e né rivalità con mia cognata, che bravissima. E la rete degli affetti è ancora più ampia. Ai familiari si uniscono gli operatori auxilium che per l'ASP offrono le cure domiciliari a Giulia. Ah, sono bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Ma che fanno? Eh, mi aiutano, mi vogliono bene e che vado in gisca. Povero Cristo, le mette un croccio pure a loro. No, non è solo una paziente. Credo che siamo una grande famiglia, non solo come azienda, ma anche in ogni casa dove entriamo. Ci mettiamo il cuore in tutte le cose che facciamo. E scherzando con loro, Giulia, tra la sua esperienza e la sua sofferenza per la malattia, non manca di mandare un messaggio anche a chi oggi è diffidente per il vaccino Covid. E date un coraggio, non perdete tempo. E dopo non si può fare più niente. Grazie. Grazie. Grazie.